Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. FoxSports.com, the Fox Sports app, YouTube, and any way you listen to podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Quello di Sanremo è un palco che Noemi conosce molto bene. Un palco che ha portato fortuna. Un palco che ha riacceso una carriera che più volte sembrava quasi si stesse spegnendo dal punto di vista del grande pubblico. Perché poi una come Noemi, col suo nome, con la sua voce, il mestiere della musica, lo può fare sempre. Però un conto è magari iniziare a fare le piazze, un altro invece è continuare magari con gli sbigliettamenti. Insomma è lì la differenza sostanziale anche a livello di vendite, è esserci, non è esserci. Quindi Sanremo è stato un palco che lei, insomma, è un palco che lei conosce bene e quest'anno ha portato una canzone molto molto bella. Forse una delle più belle del festival, c'è da dire. Nella prima serata mi colpì subito, ce n'è voluto di tempo dopo la sua esibizione per ascoltare qualcosa che mi sembrasse all'altezza. E lei, insomma, mi piace molto come canta, come interpreta e con la canzone giusta veramente può fare dei passi che altri artisti, altre artiste si sognano. Per questo secondo me era fondamentale per vincere azzeccare la cover. Perché Noemi veramente questa edizione poteva vincerla, io ne sono sicuro. Certo c'è Elisa difficile da battere, Mahmoud è blanco, però non è, diciamo, almeno per il podio poteva lottare. Ma secondo me con questa cover si è un po' bruciato. Perché sì, è chiaro che l'ha fatta in maniera magistrale, è chiaro che è una canzone storica, è chiaro che è intensa. È una canzone comunque in cui ho avuto la possibilità di dare una prova tecnica e anche emotiva forte, quindi massimo rispetto. Però io credo che comunque quando scegli la canzone per la serata cover devi scegliere un brano che sia adatto a tutti. Questa è una canzone che non è proprio adatta a tutti, non è una canzone, diciamo, è un genere che può non piacere. Certo, non bisogna fare arte per piacere, io la sto vedendo da un punto di vista puramente tecnico, pratico, no? Da un punto di vista di uno che pensa come faccio vincere questa ragazza, quindi proprio da esterno mi metto. Però ecco, siccome appunto siamo al festival, la metto così, è stata bravissima, mi è piaciuta l'esibizione, però non mi ha emozionato. Non mi è sembrata una grossa masturbazione vocale. Lei sì, si è emozionata, è andata, però a me non mi è arrivato quel qualcosa in più che poi ti porta veramente a scalare la classifica, che porta la gente a dire ti voto, che porta comunque la gente a ricordarsi quell'esibizione. Questa è un'esibizione che passerà appena è stata fatta e già è stata dimenticata. E quindi io credo che questa sera Noemi si sia giocata male quelle possibilità che aveva di vincere o perlomeno di arrivare sul podio. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381, offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre.